Cittadini consapevoli e attenti alle tematiche ambientali che reputano AISA un soggetto professionalmente affidabile. Questi i primi rilievi che emergono dall'indagine commissionata all'Istituto Demoscopico SVG dalla stessa AISA Impianti nell'ambito delle procedure per l'ottenimento della certificazione di qualità. Dati raccolti alla fine del 2014 che hanno interessato 600 abitanti dei comuni di Arezzo e di Civitella e che fanno emergere come l'80% del campione valuti la situazione ambientale accettabile. Perciò il posizionamento di AISA rispetto alle problematiche ambientali è molto importante perché essendo un posizionamento abbastanza basso, cioè non c'è una percezione che l'impianto di San Zeno sia un impianto che crei problematiche, questo aiuta in un clima più sereno invece ad affrontarle, a mantenere alta l'attenzione e a continuare a portare avanti tutte le politiche che servono a mantenere attenuato questo impatto. I dati di questa indagine arrivano a pochi giorni dalla pubblicazione degli esiti del lungo percorso partecipativo collegato al progetto europeo Life Plus sugli impatti sanitari, ambientali e socio-economici derivanti dal trattamento dei rifiuti nella medesima porzione di territorio. Secondo quest'ultima indagine realizzata da SVG per conto di AISA Impianti, il 70% del campione intervistato è consapevole che per ridurre la quantità dei rifiuti dovrebbe essere potenziata la raccolta differenziata e che la gestione dell'inceneritore di San Zeno è valida ed efficiente. È ovvio che i cittadini sono sensibili e conoscono in questa loro sensibilità sia quelli che possono essere gli effetti di una discarica, di un termo valorizzatore, ma mettono ad esempio al primo posto delle loro preoccupazioni ambientali i pesticidi, l'alimentazione e altre tematiche pertinenti all'ambiente. Quindi dire che ritengono che sia una cosa che non ha valore non è assolutamente vero. Loro sanno l'impatto che può avere, ma è vero anche che i due terzi si ritengono e sanno che non si può fare a meno del termo valorizzatore. Sì, grazie. Sì, l'indagine si è...